Siamo venuti a Vizzolla nella pista della Pirelli a provare la nuova C4 col nuovo turbodiesel da 150 cavalli. Si è impressionato il motore appunto per la spinta che offre già i 1500 giri con un buon allungo ma soprattutto per la fluidità di marcia, non si avvertono vibrazioni neanche sotto sforzo neanche con le marce lunghe. Non ci vuole stupire tra le curve con una guida graffiante, però è appagante, la guida di tutti i giorni è rassicurante con un'ottima stabilità e un ottimo impianto freni che garantisce spazi veramente contenuti. Ci stupisce anche la buona solidità generale che si è appunto guidandola tutti i giorni. Per la prova approfondita vi aspettiamo in edicola sul numero di marzo di Gente Motore.